dall'anno 2015 la federazione italiana fitness collabora con tecnici specializzati nell'ambito della ginnastica artistica per offrire un percorso formativo completo rivolto non solo all'istruzione di nuove figure professionali ma anche alla crescita di quelle già esistenti il nostro percorso formativo teorico e pratico trae ispirazione dalla ginnastica artistica attraverso uno studio analitico una varietà di strategie propedeutiche metodi di allenamento e progressione che vi permetterà di avvicinare il pubblico dei centri fitness al mondo dell'allenamento calistenico e di padroneggiare la tecnica di allenamento in ogni suo aspetto grazie a tutti